Benvenuti a Nova Goriz, siamo all'ingresso del Casino Perla dove alle ore 19 comincerà il Dex 6, la tappa di avvicinamento al campionato italiano ISOP che inizierà dal 9 al 19 maggio in quel di San Benzano. Siamo entrando nel regno della Texas Hold'em, la poker room del Casino Perla, pronta ad ospitare il Dex 6 a brevissimo, ma entriamo nel dettaglio del torneo. La struttura vincente non si cambia, il buy-in è sempre 300 euro, le fiche iniziali sono 70.000 in dotazione per ogni giocatore e la struttura è giocabilissima, infatti si parte con il bui a 40 minuti per il Dey 1 fino ad arrivare al tavolo finale televisivo da 8 persone a 75 minuti. Bene, detto questo andiamo a vedere com'è il torneo. Ed eccoci allo start del Dey 1 A qui al Dex, numeri importanti subito in partenza e non solo, anche un bel field guerrito e molto preparato. Troviamo sicuramente il pro di Lottomatica Carlo Braccini, poi Alessandro Lannini, Cristina Pavia, c'è il nostro babai sempre presente alle ISOP, il team sgoffa al completo con il suo capitano Paolino Viciglio e tanti bei nomi che si stanno già dando battaglia alle mie spalle. Per gli aggiornamenti ci vedremo in seguito. Grazie per la visione!